Allora, così come tutta l'80% della letteratura italiana contemporanea potrebbe essere tranquillamente uno sceneggiato cattivo che si vede tra televisione, direi così facilmente invece questo potrebbe essere, potrebbe diventare veramente un bel film, però c'è questo appiattimento quando si parla, non so se condividete con me questa impressione da lettore che ho, cioè di neutralizzazione. E' bella questa dissolvenza incrociata che le dà un capitolo dell'altro. Sì, infatti. Quelle cose apparentemente che non c'entrano nulla l'una con l'altra, ci sono dei film dove le scene finiscono a nero e per i culi. Sì, infatti. Vorrei fare un attimo, ho trovato un pezzo, ho detto che veniva in trena, ho solo riletto, quanto, ce l'ho fatta lì? Non mi sono siedo, però. Eccolo qua. Queste tre righe che danno, secondo me, l'idea di com'è questo, il perché mi corre così. Ah, allora. Io odio i finali tristi, proprio non mi sopporto, anche se sarebbe meglio mi evituarsi, soffrirei in me. Invece faccio di tutto per inventarmi una vita felice. Ecco, questo per me è il sunto di questo personaggio. E quindi possiamo... All'altro, insieme all'ultimo romanzo, c'è il precedente, l'imperfetto e il novella novecestuno, che è il biondo novecestuno, che è una novella, un monologo, un teatrano, un'ottima, un'ottima. La finezza è una buona, un'ottima, 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 un'ottima. Mi ascoltate una professione di Stato? Perché un peci, due e di cristallate, lo tutte le trate per voi. No? Perché era perfetto, aveva comunque un proprietario giù, scripta, di presentazione. Ma dove? Non were. Allora, facciamo. E' spinto le cantele? No. No, non ancora. Pronto? No. Sono baciati? No. Ma come è un altro? Ma io ho fatto la cittadina con l'arte. Uno? Grazie. E' un po' di risposta. Pane? 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 No. Pesca che non so. 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 Grazie. Grazie.